Giallo Capini, dopo la prova di forza del sindaco di Cesenatico, la Lega Nord sfiducerà il primo cittadino oppure no? Prova di forza del sindaco Buda fallita. No, noi non è che cerchiamo, il nostro obiettivo è quello di amministrare bene i territori, non di mandare a casa i sindaci. Però se questi non capiscono che la Lega è una componente essenziale, non solo in termini numerici, ma anche in termini di idee, è chiaro che diventa difficile. Io sono sempre per cercare una soluzione nell'interesse dei cittadini, soprattutto nell'interesse della città di Cesenatico in questo momento qui. Informalmente ci è stato detto che pare venga proposta una soluzione di buonsenso che sia una soluzione che va nella direzione di un rilancio dell'azione amministrativa. Se così è, se così verrà formalizzato, chiaramente viene a meno la necessità di pensare a una fase 2, diciamo così, da un punto di vista politico ed elettorale. Se invece sono solo chiacchiere, come abbiamo sentito negli ultimi due mesi, c'è una dignità, prima che per il movimento politico, per gli elettori. E sono tanti, perché a Cesenatico la Lega è al 25%, e quindi il 25% della cittadinanza chiede un cambio di passo all'amministrazione Budda. Se l'amministrazione vorrà farlo, noi siamo disponibili, perché siamo leali nei confronti degli impegni presi tre anni fa. Però lo deve essere anche il sindaco, quindi, ripeto, noi attendiamo ancora qualche giorno e poi dopo trareremo le nostre conseguenze.